Eppure siamo così deboli per sfiorarci le mani nell'ora in cui si è deciso di soffocare l'ansito sotto la cenere, perché troppo vecchi per camminare e troppo giovani per stare fermi. E' la fola delle illusioni che fa paura. E sì, forse dimenticare sarebbe l'inganno più sensato, ma l'assedio moltiplica gli spettri e persino spegnere la luce è insufficiente. Quanti istanti bisognerà contare per riempire la sospensione del vuoto? La tregua del mattino consola e rimaniamo a guardare lo stupore dell'ombra.